Breitling Avenger, il perfetto orologio da pilota. Questo orologio, nato per soddisfare le esigenze dei piloti e dei professionisti dell'aviazione, offre una serie di caratteristiche che lo rendono unico nel suo genere. Breitling Avenger è la collezione che comprende diversi modelli di cronografi e orologi subacquei. Tutti gli orologi Avenger sono dotati di una cassa in acciaio e titanio con rivestimento DLC, carbonio con un elevatissimo grado di durezza, simile al diamante che dona maggior resistenza agli urti. Il diametro varia tra 43 e 48 mm. La lunetta è girevole unidirezionale, sui modelli cronografo, con numeri e indici incisi. Sul quadrante gli indici sono misti, talvolta con numeri dall'aspetto militare, che ricordano quelli stampati sui veicoli e sulle attrezzature delle forze armate. I numeri sono grandi e ben leggibili, anche in condizioni di scarsa luminosità. Le lancette sono a spada, con inserto luminescente. Su alcuni modelli sono presenti tre contatori, con funzione cronografo. Le altre complicazioni disponibili per questa collezione sono data e GMT. Lo sfondo del quadrante è disponibile in vari colori, nero, blu, verde militare, grigio, giallo, arancio e antracite. Il vetro è in zaffiro bombato, antiriflesso su entrambi i lati. Il movimento degli orologi Avenger è meccanico a carica automatica, con riserva di carica di circa 42 ore. Il movimento è preciso e garantisce una fidabilità eccezionale. Il tutto è protetto da un fondello in acciaio o in titanio, avvitato e impermeabile fino a 300 metri o fino a 3.000 metri nel caso del modello Avenger Automatic 45 Seawolf. Il cinturino degli orologi Avenger può essere in acciaio o in titanio, oppure può essere in pelle, tessuto militare o cauccio, con fibbia d'ardiglione. Il cinturino è regolabile anche indossando i guanti, grazie al sistema brevettato da Breitling. Il Breitling Avenger è un orologio che offre molte ragioni per essere scelto. Ecco alcune di esse. Breitling Avenger è un orologio da pilota, che si ispira alla tradizione aeronautica di Breitling e che offre funzioni utili per chi ama volare. È un orologio robusto e resistente, che può affrontare le situazioni più estreme e garantire una protezione ottimale al movimento. È un orologio preciso e affidabile, che ha superato i test più severi e che è certificato come cronometro dal COSC. È un orologio di design, che ha uno stile audace e accattivante, con numeri militari e colori vivaci. È un orologio versatile, che si adatta a diversi look e occasioni, grazie alla varietà di modelli, materiali e cinturini disponibili.